Che futuro avete disegnato? Il futuro che si presenta di fronte è un futuro complicato e difficile, nonostante la ripartenza che sicuramente c'è stata. È un futuro che ci dovrà vedere protagonisti e attenti nella pressione che dovremo fare nel governo, ma anche sulla politica locale, perché i lavoratori sono ancora in difficoltà e sono in pericolo. Ovviamente le aziende devono avere un aiuto e un sostegno, ma il sostegno e l'aiuto devono essere in funzione di quello che è la protezione del lavoro. Quindi un altro elemento per cui ci batteremo sicuramente è la sicurezza nel mondo del lavoro. Quindi sappiamo che sono successe anche ultimamente tragedie gravissime anche nel nostro territorio, ma la sicurezza del lavoro è importante, si fa soltanto con la prevenzione e con la formazione dei lavoratori, senza abbassare la guardia, con tanta attenzione, con tante prescrizioni, le leggi ci sono, dovremo farle anche forse di più precise, ma sicuramente anche con i controlli, perché senza controlli non possiamo essere tranquilli e non possiamo su questo argomento davvero lasciare che si faccia tutto senza nessun intervento. Dovremmo trovare delle formule, ovviamente noi crediamo molto in questo e che si possa fare soprattutto con la contrattazione più che con la legge e con tutta una serie di attenzioni che il governo dovrà tenere, cioè non più aiuti così a mano libera, ma aiuti che devono essere vincolati a una permanenza sul territorio e soprattutto a garantire il lavoro per i nostri concittadini e per i nostri altri lavoratori. Non si può pensare che questo succeda soltanto con le regole che il mercato si pone da sé, ma appunto bisogna intervenire. Per noi è fondamentale anche la partecipazione dei lavoratori all'impresa ed è ora che si riprenda anche questo tema, perché soltanto con la partecipazione all'interno delle imprese, che siano multinazionali, che siano territoriali, i lavoratori potranno esserci prima che nascano le vertenze.